Com'è quella cosa che mi hai detto prima? Quale? Sui ricchi? Che... che i ricchi sono ladri! Perché? In che senso? Va bene! Come sono ladri i ricchi? Ma chi te l'ha detto? Eh, ma sono ladri! Ma perché? Perché loro rubano a quelli che hanno tanti soldi! Ah, i ricchi rubano agli altri ricchi, quindi? Sì! Come rubano agli sceriffi! Ah, i ricchi rubano agli sceriffi! E tu cosa ne pensi, Jacopo? Cosa ne pensi di questa cosa? Non ho sentito niente! Ma da dove vi vengono queste teorie? Ma roba da matti, veramente! Guarda, dai bacini a me, ma voglio notare! Non capisco, no! Non capisco! Per chi so?